cari amici questo video lo dedico sempre al mio amico peter pietro svelto e quant'altro nome per un periodo è stato molto triste perché ha dibattuto con altri miei amici sul fatto che comprare un coniglio da chi lo vendeva era giusto o no perché in quella maniera lui l'avrebbe salvato da una macellazione secondo me sì se lo puoi fare puoi spendere dei soldi per salvare una vita ben venga ben venga è un atto buono così come pure certi ex cavalieri se comprano gli agnelli vanno bene vanno bene però devi essere pure vegano veramente non di facciata vabbè sono contento per questo però invece lo mostriamo al mare e vedo tanti pesci che nuotano liberi e felici forse non ridono mai però forse sono felici guardate qua che stanno qua io per far vedere intorno mi stanno venendo tutto intorno ai piedini d'oro va bene non se vedono allora io dico attenzione amici se avete l'acquario è sbagliato perché vuoi per in questo acquario mettete degli esseri li mettete in carcere in questo acquario non avete il diritto di farlo solo perché guardate qualcosa che può essere bello se proprio lo volete ci sono dei pescettini finti fighissimi che potete avere riproducete per finta questo acquario e la mattina quando vi alzate vedete questo questa immagine colorata ma non dovete schiavizzare esseri viventi che soffrono così come poi cottate tutti quegli acquari giganteschi dove ci stanno orche delfini eccetera perché sembrano che ridono ma quelli poveretti per accaparrarsi qualche pesce gli tocca fare quello che fanno a foca così ma perché dobbiamo sfruttare questi animali perché se fossero liberi in uno spazio che possono entrare uscire quando vogliono in una laguna un laghettino comunicante col mare beh venga allora uno che questi ci vogliono donare il loro amore benissimo ma non schiavizzare noi non abbiamo diritto come umani di fare questo agli altri l'unico delfino che poi è proprio il suo perché io sono fino unico delfino accettabile è questo qua e ve lo faccio vedere subito un bacio attenzione via